Gentili dai spettatori dei protagonisti, in compagnia di una figura regale e ammaliante che tanto fa sognare noi uomini che ci approcciamo al mondo dello spettacolo insieme a Luciano, regista, choreografo, canito e un l'enfant prodige Nicolò Noto Allora, Geffoni Film Festival, il tema incentrante è appunto la felicità Di prima a chi tu mi vorrebbe pensare il vostro rapporto? Sì, hai detto bene, è un rapporto molto felice, è un rapporto molto sereno che si fonda su grande rispetto e amore quindi penso che tutto questo possa essere messo nel grande contenitore che è la felicità Senti Luciano, tu sei regista di opera, di musical, anche di film le differenze che hai riscontrato tra i vari set in cui hai operato e diretto ovviamente anche i vari artisti? Dunque, il set cinematografico è un set molto operativo la gente è molto pragmatica, si lavora un po' più come un'industria perché in realtà alle spalle c'è un grande mondo molto più ricco il mondo del teatro e dell'opera è un mondo dove ancora esiste un po' la prima donna esistono ancora dei personaggi che vanno coccolati c'è il rispetto del fatto della musica e della voce che sono talmente impalpabili talmente sacri per cui nel momento in cui non c'è non fai lo spettacolo e il mondo della danza è quello più di sacrificio fatemelo dire, ma è il mondo dove si lavora tre volte tanto perché il corpo umano non fa sconti mai Appunto, sacrificio, Rossella, nella tua scesa quanto hai inciso oltre al talento, alla sofferenza, all'applicazione per quella che oggi sei diventata e quanto ti sei ispirata all'inizio alla signora Ferri per quelle che non c'è una sala della tua proiezione, come modello? Beh, innanzitutto ho iniziato a fare danza proprio grazie a lei guardandola in una trasmissione che si faceva sulla RAI su RAI 1 mi sembra, si chiamava Maratona d'estate della Ottolenghi e mi innamorai di questa donna fantastica del suo modo di ballare, della sua eleganza e poi da lì ho iniziato a fare danza e ho capito quanta passione ma anche quanta devozione un po' alla sofferenza noi ballerini siamo un po' masochisti devo essere sincera però la danza è quasi una devozione e quindi ecco perché la consiglio come mestiere soltanto a chi ha questo tipo di cose, di passioni quindi sicuramente tanto lavoro è sempre anche legato a sofferenza a rinunce, perché no? però si fanno ben volentieri perché poi i risultati quando ci sono quelle gratificazioni a teatro devo dire che non c'è prezzo per niente Appunto, gratifica il lavoro a cui sei più legato se ce n'è uno che primeggi in assoluto lungo le tue corde ma io sono particolarmente oggi noi siamo qui per parlare di Amarcord che è il film di cui noi stiamo facendo un balletto adesso che porteremo in giro con Nicolò e Rossella ma il lavoro che amo di più e non ho paura di dirlo perché l'ho già detto mille volte non ho paura di sembrare patetico voglio sembrare patetico è Carmen perché mi ha fatto conoscere Rossella cioè è stato uno spettacolo che è stata l'occasione di incontrarla io cercavo un interprete selvaggia un interprete fuori delle righe un interprete potente e passionale l'ho conosciuta e sono rimasto veramente folgorato sulla mia via di Damasco della ricerca della felicità appunto, felicità in questo punto interiore un'altra dichiarazione d'amore il maestro inflessibile, ogni volta si parla di Rossella chissà perché si commuove, è rotto dall'emozione perché appunto si parlava di felicità si parlava di amore, di affetto, di rispetto quando si parla di tutte queste cose con sincerità l'emozione è chiaro che c'è non si può prescindere in ultimo ti sei rivelato una briosa, brillante, ironica conduttrice radiofonica laddove dovessi oggi optare tra tv e radio quale preferiresti? diciamo che non è che c'è in giro tutto questo lavoro quindi mi sono un po' ricercata vari spazi per lavorare vabbè, a parte gli scherzi la radio per me è ormai diventata una seconda casa andare lì al mattino perché ci vado veramente se potessi andare in pigiama ci andrei in pigiama non ci vado per decenza e pudore però è una mia seconda casa sono tra fratelli, tra amici e in radio non c'è bisogno di essere truccate non c'è bisogno di usare i tacchi quindi veramente puoi essere te stessa e non è una frase banale ma è veramente la pura verità quindi... e non si può mentire mai perché la gente lo capisce quando ti ascolta e sa se sei vero o stai fingendo e quindi penso che sia la radio è una cosa che spero di poter fare sempre perché mi dà mi dà grandi soddisfazioni senti Luciano la trasmissione siamo i protagonisti come del resto lo siete voi nella vita interiore anche in quella professionale un saluto a chi ci sta guardando un grande grande saluto a tutti i protagonisti che poi alla fine siamo tutti noi ma soprattutto siete voi sentitevi protagonisti e siete la vita sarà nelle vostre mani non fatevi scegliere scegliete sempre voi Tocasa Rossella io vi saluto e vi ringrazio per questa ospitalità di questa giornata bellissima che stiamo passando qui al Giffone e ha un tema molto importante che è quello della felicità e penso che veramente tutti dobbiamo avere una possibilità di essere felici quindi questo è l'augurio che faccio a tutto il mondo comunque assolutamente bisogna trovare la felicità tutti devono farla e tutti ne hanno il diritto e tu che in questo momento oggi ne sei l'emblema e la massima aspirazione per tutti noi grazie di tutto esagerato grazie 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 a tutti grazie a tutti